oppure sul sito www.lorinasport.it un applauso a tutti i ragazzi che ci chiedono a questa finale per il primo e il secondo posto guarda che vorrei tutti informazioni 1. Lorenzo, colori speciali bianco-rosso numero 13. Ferrari-Sara numero 4. Dolby-Crizia numero 8. Nicolò numero 10. Benedetti-Marco numero 12. Guttis-Brian numero 15. Taroli-Roberto numero 17. Guttis-Matteo numero 18. Guttis-Faric numero 20. Daniele-Faira A.S. Vattenis, colori speciali Gallo-Verde numero 12. Guttis-Telerico numero 13. Speziani-Mangol numero 3. Ragioni-Alessio numero 4. Svanetti-Nicolò numero 6. Svestre-Andrea numero 7. Inotti-Giacobo numero 8. Mametì-Gadà numero 9. Fiserio-Thomas numero 11. Marini-Iva numero 1. Visioli-Vittor numero 10. Antonioli-Federico numero 14. Bontenzi-Riccato Noi-Vittor 4. Guttis-Federico Grazie. 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 Grazie.